Siamo partiti. Siamo partiti, ma questo lo taglio, quindi non è ok. Io invece lo lascio come l'altra volta. E invece magari lo lascio a tradimento, vediamo. Bisogna iniziare. Mirko, vent'anni. Sì, diciannove. Vent'anni marzo. Di Venezia. Di Venezia, sì. Eccoci qua con Mirko, vent'anni... No, è sbagliato. Allora, è venuto a trovarmi Mirko per questa nona puntata di Storia di Kikomori. Ha diciannove anni e viene da Venezia. Tanto grazie anche a te per esserti fatto il viaggio Milano-Venezia, come l'ultima ragazza, come Melania. Hai primato di essere il ragazzo più giovane che è venuto qua da me a trovarmi. Come mai hai deciso di iscrivermi e venirti qua? Allora, io ho deciso di iscriverti perché vorrei testimoniare la mia storia, perché ci sono certi lati del mio essere stato e Kikomori, perché non lo sono più, diversi da quelli che sono stati raccontati. Molti ragazzi probabilmente stanno vivendo le stesse cose che io ho vissuto in passato e vorrei essere un esempio per loro per vedere anche che si può uscirne, si può cambiare. Quali sono le cose secondo te rispetto alle storie che abbiamo già visto, che sono un po' diverse? Ecco, i temi che sono stati un po' meno trattati o proprio non trattati è il modo in cui un Kikomori si rifugia dalla realtà su internet, su Facebook, sui social per trovarsi delle nuove amicizie. Stando sempre a casa mi sono sempre sentito solo, mi sono sempre sentito incompreso, mi sono sempre sentito diverso dalle altre persone, migliore delle altre persone, perché ero molto un ragazzo che provava rancore verso tutti. Sì, mi sentivo più intelligente, mi sembrava che le persone non capissero nulla. Facebook nel mio caso mi ha aiutato molto, mi ha aiutato e anche no, perché comunque sono stato dentro a un vortice che ho messo tipo un anno per uscirne. Però mi ha fatto sentire un po' meno solo il fatto di avere delle persone con cui parlare, mi sentivo come se fossi fuori dal mondo, in un mondo migliore, con delle persone migliori, che mi capissero. Ma tu su Facebook con che persone parlavi? Come conoscevi le persone con cui parlavi? Allora, adesso vi spiego. Io ero un role player. Per chi non lo sa, in pratica è immedesimarsi in un personaggio, crearsi un account finto, in questo caso visto che usavo Facebook, e fare finta di essere un personaggio di un cartone, di un anime, di un film, di un videogioco, e tu lo impersonificavi come se fossi un attore, no? Io avevo molti account, perché ovviamente Facebook bannava sempre questi account e la gente ce l'aveva su con il caro Mark. Io ho fatto, non mi ricordo neanche il primo account che ho fatto, sinceramente, però va bene, insomma, qualche personaggio di Fairy Tail, oppure No Game No Life. Di anime? Sì, principalmente solo di anime io, perché sono sempre stato un appassionato della cultura giapponese, degli anime, dei fumetti. Creavi gli account con l'avatar, quindi l'immagine di questo personaggio, e facevi finta di essere realmente questo personaggio, quindi come il personaggio si comportava nell'anime? Sì, sì, esatto, e con le altre persone facevamo le chat di gruppo, dove... Anche gli altri roleplayers? Sì, con gli altri roleplayers. C'era un gruppo che si chiamava Roleplayer Italia, con tipo mille persone, e poche persone facevano roleplay veramente, no? E come me, molti altri ragazzi lo usavano semplicemente per farsi delle amicizie, quindi alla fine avevi solo l'account falso, però avevi una chat di gruppo con delle persone che, non so, si creava un legame forte, un legame... E secondo te, appunto, in che modo negativamente hai influito sulla tua, diciamo, già visione un po' distante degli altri? Perché ti ha dato la possibilità di trovare persone con cui ti trovai bene, e quindi magari le altre persone diventavano ancora di minore interesse, le altre interazioni? Avevo qualcosa su cui fare appoggio, no? Quindi era più sopportabile tutto quanto. L'isolamento deriva proprio da quando sono più piccolino, da bambino. Ho sempre avuto problemi a relazionarmi con le persone. Per i miei problemi familiari ho subito dei traumi da bambino, no? Questi traumi mi hanno portato un po' a chiudermi in me stesso, a isolarmi. All'elementare ero un bambino, diciamo, molto vivace, con tutti gli altri bambini, eccetera. Però, siccome io sono nato da una famiglia atea, ok? Non ho mai frequentato catechismo, religione. Io ho bisogno di un paesino di 10.000 persone, quindi... Non è proprio Venezia, è un paesino vicino Venezia. Cioè, proprio una mentalità con la religione molto forte ancora. All'epoca si sentiva poco parlare di atei, di persone agnostiche. Quindi eri un po' escluso dalle dinamiche di paese. Sì, mi guardavano male, soprattutto i genitori. Mi sentivo osservato con un occhio diverso. Perché appunto sembrava una cosa che non si potesse concepire, no? Però mi sono sempre visto un po' così, anche dagli altri bambini, ovviamente influenzati dai genitori. E invece, quindi con la tua famiglia hai avuto dei problemi? Sì, ho avuto dei problemi familiari che non sto qui a raccontare. Però mi hanno portato a isolarmi, a chiudermi me stesso. E principalmente questo. Poi, sai, io avevo all'elementare un amico che ho conosciuto all'asilo. Ho legato con lui tanto e lui era proprio il mio miglior amico. Cioè, con lui sono stato assieme 6-7 anni, tipo una cosa del genere. E mi ricordo che alle medie, in prima media, mi aveva escluso. Cioè, era proprio stracambiato e mi ha escluso dalla cerchia di amici. Abbiamo tagliato i rapporti senza mai parlarci. E questa cosa, diciamo, che ha dato un po' il segno, no? Hai subito bullismo? Cosa è successo a scuola? Sì, bullismo l'ho subito perché è più verbale. Nulla di serio, comunque. Ho avuto una fase molto emo da ragazzo. Io quando ero bambino mi ricordo che c'era ancora la moda qui in Italia. Erano tutti col ciuffo. C'era il ciuffo anche tu? Eh sì, ce l'ho ciuffo anch'io, no? Mi vestivo con i jeans stretti, queste cose qua. E mi davano del frocio, così per... Ok. E questa cosa ti faceva stare male? Eh sì, ovvio. All'inizio mi faceva stare male. Poi, insomma, le cose sono cambiate. Però tu non sei mai arrivato a abbandonare la scuola? No, non sono mai arrivato a abbandonare la scuola perché... Non lo so, avevo paura di farlo perché se avessi finito anche di andare a scuola non so cosa avrei fatto, no? L'unica volta in cui uscivo di casa era solo per andare a scuola in pratica. Ok. Poi non avevo relazioni sociali con nessuno. Per esempio l'estate cosa facevi? L'estate ero a casa a giocare a League of Legends tutto il tempo. Quindi l'estate era il momento? Guardavo anime o... E appunto parlavo con i miei amici di Facebook. Ho avuto una relazione a distanza con una ragazza che mi ha conosciuto su un gruppo Facebook che pensavo fossi di Napoli perché questo gruppo era prettamente napoletano ma io non lo sapevo. Ah, tu sei finito in un gruppo? Io sono finito, sì, e vabbè, non so se sei presente. Il 400 secondo me non è scambiabile per coordinare. No, no, infatti non mi dicono neanche che assomiglia... Io non so se tu... Recipisci un po' al mio 100 Veneto. Beh, sì, sì, sì. Eh, per diritti, quelli che sono del Veneto mi dico che non ho al 100 Veneto, quindi... Eh, lo so, però se vieni qua a Milano si sente. Si sente, si sente, ecco. C'era questo gruppo dove le persone scrivevano le loro storie in maniera un po' depresse, nel senso che si piangevano un po' addosso ma ci scherzavano sopra, sai, un po' i stori di team. Non so se l'ho scritto io a sta ragazza o l'hai scritta a me, sta di fatto che dopo un po' ci siamo visti, ho preso il treno e sono andato giù a Napoli. Quindi è stata una relazione non solo virtuale, ma non solo... No, no, ci siamo visti molto spesso, lei veniva... è durata un anno, però mi dispiace per lei sinceramente. Cioè, se stai guardando questo video ad elle, cioè, bacio. Vabbè, non parleremo male di questo ragazzo. No, no, non parliamo male, ma... Più che altro lei è stata assieme a una persona che non sapeva... Cioè, io non mi sono mai aperto con lei. Siamo stati assieme, sai quegli amori un po'... Quegli adolescenziali, quegli stupidi, quelli che non hanno un significato. Va bene, non ti sei mai aperto. Non mi sono mai aperto con questa persona, nonostante siamo stati assieme un anno, ci siamo visti molte volte, lei veniva sempre giù da me. Durante l'anno andavo io da lei. Ok. E quindi uscivamo, stavo con lei, ma ero sempre un po' zitto, sempre un po'... Non sono mai stato me stesso con quella persona. E andavamo comunque in centro, io non parlavo con nessuno, mi sentivo a disagio, sai. Con lei parlavi? Con lei parlavo poco. Quindi vivi via devarde, ma comunque parlavi poco? Sì, parlavo poco. Ero molto imbarazzato, avevo molti sorrisi, sai, quelli nervosi. Ok, ma avevi paura che lei ti giudicasse per il fatto che eri poco socievole? O perché... Avevo paura proprio di mostrarmi, ma non solo a lei, ma a tutte le persone. avevo proprio paura di mostrarmi come ero effettivamente. Mi sono sempre creato una maschera che poi non sono più riuscito a togliermi. Non so, hai particolari ansi legati alle relazioni? No, le sto tuttora combattendo, perché comunque penso che tutte le cose della mia adolescenza me le sono portate dietro per un bel po' di tempo, anche quando sono uscito, comunque tutte le mie ansie sociali ce le avevo ancora e ci ho messo tempo e tempo e molta buona volontà per migliorarmi, ecco, per voler diventare la persona che volevo essere. E cosa ti ha fatto scattare questa voglia di cambiare questa condizione? Adesso così su due piedi non saprei dirti. Ti posso dire una cosa, io sono uscito per la prima volta con delle persone, ero uscito con una ragazza che emo, si vestiva in modo particolare come mi piace a me e ci siamo trovati al parchetto, così, a parlare. Vabbè, dai, con lei ero abbastanza a mio agio, però lo stesso non riuscivo a scherzare. Quindi anche lei ha incontrato online? Sì, anche lei è online e ho cominciato ad uscire fumandomi le canne. La prima volta che sono uscito e sono andato al parchetto, avevo l'ansia di andare al parchetto, stavo, avevo il cuore che batteva a mille, non stavo proprio bene, perché sapevo che c'erano delle persone. Ok, e le canne ti hanno aiutato? Eh, le canne mi hanno aiutato a legare. uno spot alla marijuana, però, diciamo che... Non vi drogate, ragazzi. Non vi drogate, però, diciamo, ti hanno aiutato a rilassare. Ma no, ma in realtà no, non è cambiato nulla, semplicemente, diciamo, è il mezzo con cui mi ha fatto scusa. Sì, anche, sì. Cioè, io penso che comunque ti faccia rendere conto di alcune cose, la marijuana, magari anche le altre droghe che io non ho mai provato. Questo lo taglio. No, ma era per dire... Ah, scherzi. Ah, lo scherzi? Non lo so, vediamoci, penso. Vediamo. Il marco del futuro valuterà. Io non voglio... No, va bene, va bene. Quindi diciamo che piano piano sei tornato ad avere più interesse nell'uscire, nel frequentare persone. Sì, sì, ho cominciato a uscire in terza superiore, principalmente. Ovviamente, prima ho avuto dei periodi in cui uscivo, sono stato un giocatore di Yu-Gi-Oh! per molto tempo. Però era quasi come se stessi giocando contro il computer. Io andavo in famiglia solo per giocare, non parlavo con nessuno, cioè... Ma giocavi contro un'altra persona? Sì, sì. Quando non ci parlavi, cioè... Giocavo, io ero lì per giocare e basta. Ok. Non ho mai... Non sono mai andato lì per socializzare, per fare degli amici. Ti serviva qualcuno che giocava contro di te? Sì. Ero una persona, un robot. Sì, ti rompe dalle le stesse. Leggava niente. Ok. Quindi non lo reputerei proprio... Ok. Però dopo un po' mi hai detto che tu comunque oggi stai meglio, no? Sì, sì. Hai superato questa fase di solitudine. Sì. Come la vivi? Nel senso, se ci ripensi, quali pensi siano stati gli elementi determinanti, scatenanti e quelli che ti hanno aiutato un po' a uscire, a fare un riassunto. Le persone che mi sono state vicino, i miei amici, perché io mi ricordo c'era un ragazzo che tutto era il mio migliore amico, cioè io andavo ancora a scuola, ero ancora emo, cioè ero mi sembra di seconda, terza e superiore, e lui mi è venuto a parlare così perché anche lui è un po' strano, nel senso, io chiaramente ero una persona chiusa, però non lo so, gli piacevo e quindi si insisteva a uscire con me, tutte queste cose. Quindi hai trovato una persona con una certa affinità. Sì, esatto. Comunque ti capivi, riuscivate a parlare. Lui mi ha molto aiutato, come anche altre persone successivamente, perché io penso che uscito a uscito è quando ti levi proprio tutte le cose che avevi. Come dire, avevo molta ansia sociale, molti problemi di depressione. Come dire, quando ci sei dentro non puoi capire la bellezza della vita, la bellezza delle cose, vedi, tutto in maniera negativo e per te sembra normale, sembra la realtà e non puoi... Cioè ha commesso un raggio di luce, di consapevolezza, mi avesse fatto capire che la vita non è questa, la vita è quello che decido io che sia, capito? Certo. E questa cosa mi ha molto motivato a cambiare, a diventare la persona che sono tuttora, che ancora ovviamente mi voglio migliorare. Beh, certo, sei ancora giovane. Certo. C'hai tanti difetti, puoi migliorare. Però vabbè, sei riuscito a ritrovare... Ho fatto passi da giganti comunque, anche in breve periodi. I tuoi genitori che vuoi hanno avuto in tutto questo? Non sapevano cosa... come magari i genitori adesso che seguono questa pagina... Ma come reagivano quando ti vedevano tutto il giorno in casa? Beh, mia madre aveva un po' un modo di fare un po' troppo, come dire... Sì, un po' da carabiniere, un po' da generale. Lei mi diceva vai fuori, esci, cosa fai a casa? Mi staccava la DSL quando giocavo troppo. Ah, classico. Sì, classiche cose che non servono a niente. E tu quindi andavi in conflittualità? Io andavo in conflitto, ovviamente, con i miei. Tuo padre uguale? No, mio padre mi lasciava un po' più libero, non capivano. Io non mi apprivo che i miei genitori, chiaramente, purtroppo. E sai com'è? Quando si è in certe situazioni, basta una parola sbagliata che entri sulle difensive. Certo. Quindi, ovviamente, bisogna sapere parlare. E adesso è cambiato il rapporto con i tuoi? Sì, è cambiato abbastanza, sì. Più scialla. Più tranquillo. Più tranquillo, loro vedono che comunque esci. Sì, adesso è proprio una roba che ho superato. Pensare a come stavo qualche anno fa mi sembrava quasi una fantasia, per dirti. Però, secondo te, loro hanno dei meriti nel fatto che tu hai deciso di reagire o...? No. No. Quindi, diciamo, il rapporto è migliorato perché tu sei migliorato. Sì. Non perché loro hanno cambiato tutti i miei. Le persone che mi sono state più vicino sicuramente mi hanno aiutato, però comunque... Un'altra cosa che volevo chiederti è... Tu hai mai avuto problemi con il tuo aspetto fisico? Nel senso, il tuo isolamento è stato determinato anche in parte dal fatto che non ti piacessi fisicamente? No, però ho avuto comunque molte ansie. Cioè, io ho armato per la simmetria come Darth The Kid. Cioè, lui... Darth The Kid. È il personaggio di Soul Eater. Ah, sì, l'ho visto. È il figlio dello Shinigami, in pratica, che lui è maniaco della perfezione. E quindi anche tu... E lui se non... Cioè, lui sta proprio malissimo se le cose non sono simmetrici. Ma la simmetria ha anche del tuo volto? Sì, sì, tutto. Quindi anche i peli, della barba... Sì, sì. Guarda, io ero un... Ero un... Fissato con la simmetria. E noi non siamo simmetrici. Quindi ci vedevo... Vedevo le persone proprio come dei mostri. Quindi un po' un... Diciamo, una mania di perfezionismo. Sì, sì. È un'altra tematica che ho attrattato anche sul mio canale, che può portare all'ossessione, perché poi l'ansia... Sessionato, guardo sempre davanti agli specchi a guardarmi. Mi facevo le sopracciglia e anche per questo mi prendevano in giro, no? Tiravano del frocio. Sì. E poi io mi ricordo che mi depilavo tutti i piedi del... Cioè, io sono stra-peloso. E io mi depilavo tutti i peli, dalla testa ai piedi proprio. Perché... Perché vedevo le persone come dei mostri pelosi. Cioè, proprio... Avevo queste immagini. Quando vedevo, mi ricordo ancora... Una cosa che mi rimasta impresso è quando a 15 anni, 16 anni, mi ricordo... Sono andato a Londra due settimane e mi ricordo che all'aeroporto è tipo vedere le braccia pelose... Avevi sviluppato una fobia per i peli. Sì, mi sembra... Mi faceva proprio ribrezza, mi stavo male. È una delle, secondo me, tante ripercussioni dell'ansia, di un profilo ansioso. Siccome tu mi hai detto prima, mi hai detto che stai pensando anche di provare a entrare nel mondo della moda, quindi... Questo mi fa pensare che tu oggi non abbia particolare avversione rispetto alla tua immagine, rispetto al tuo aspetto esteriore. È vero o il mio pensiero è semplicistico? Un po' tra... Cioè, diciamo che si è alleviata la situazione. Comunque ho ancora delle mie fissazioni. Però nulla di così estremista come prima. Sono cose che comunque ancora dentro... Sono ancora un po' fissato sul mio aspetto, a volte non mi piace, a volte no. Vabbè, quasi normale. Sì, comunque passo ancora abbastanza tempo davanti allo specchio. Vabbè, però diciamo che un'altra cosa di cui vabbiamo a parlare prima è appunto che spesso si dice che Kiko mori o comunque che Gisola è per forza brutto, ma questo è assolutamente una cavolata. Magari in alcuni casi ci può essere una particolare incidenza della propria autostima fisica. Poi, appunto, l'autostima fisica è quella che determina anche un po' la percezione degli altri di brutto, bello. Ovviamente ci sono delle caratteristiche abbastanza canoniche a livello sociale, però io parlo più che di bellezza, parlo di autostima fisica. Quindi tu avevi un'autostima fisica... Bassa. Bassa, però adesso anche questa è migliorata. Sì, certo, certo. Come tutte le altre cose. Sono in una fase positiva. Ti devi diplomare quest'anno. Sì, mi devo diplomare. Questo anno è cominciata. Ah, è pieno di cominciare? Sì, ma è iniziato una settimana. Comunque è molto determinato, perché la scuola io... Cioè, mia mamma mi ha sempre pensato che fossi un fannullone, che non me ne fregasse un cazzo di niente, queste cose così, perché andavo sempre male a scuola, non ero mai interessato a niente, però il fatto è che io mi sono sempre vissuto male da scuola, appunto perché ho avuto dei problemi più grossi. Cioè, pensavo ad altre cose, pensavo che la scuola non servisse a niente, non riuscivo a avere interesse nelle cose che stavo affrontando scolasticamente. E anche poi è che è migliorato. Certo, sì, sì. Migliorato, anche perché comunque ho preso più consapevolezza, cioè più maturità in me, quindi... Il rapporto con i tuoi compagni è migliorato? Ho migliorato tantissimo, sì. Sempre nella stessa scuola o hai cambiato? Sempre nella stessa scuola. Ho cambiato un anno solo, in prima superiore, la seconda sono andato su un'altra scuola, sempre il stesso indirizzo. Adesso studio chimica ambientale. Ok. È molto migliorato, perché prima appunto, anche quando sono uscito da questa fase di Kikomori, tendevo ancora ad essere molto aggressivo, avere paura di essere giudicato, però molta rabbia, molta rancore. E queste cose, ovviamente, si ripercotevano anche sui miei compagni di classe, sugli insegnanti. Non ero, diciamo, una bella compagnia. Ok, quindi ti riconosci costantemente poi come una persona che allontanava, più che avvicinare. Sì, 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 tantissima. E adesso io sono praticamente, in molti aspetti, l'opposto di quello che ero, perché appunto sono io che ho voluto diventare così. Sono contento che ne sei venuto a parlare, perché comunque la tua è una storia positiva, nel senso che sei la dimostrazione che le cose possono cambiare, che si può migliorare, che si può crescere, che insomma anche la propria percezione degli altri, del mondo, della società, della scuola, può migliorare, pur sapendo che comunque ci sono tanti difetti, quindi non è che è tutto rose e fiori. L'ultima domanda che ti faccio poi, e ti lascio a te se vuoi aggiungere qualcosa, però l'ultima mia curiosità è il rapporto con i miei giochi. Tu oggi gioco ancora? Sì, sì. Sei ancora, quindi, un gamer. Sì. Cosa giochi? Dico leggi. Sei un malato, sei forte, tu sei... No, beh, non so se sei i ranki. Sì, più o meno. Eh, ero platino, ma ci credevo da ragazzino, per dire. Vuolevi diventare un giocatore professionista. Sì, sì. Come è voluto il tuo rapporto con i videogiochi? È voluto, ha avuto un ruolo? Parlamene un attimo. È voluto. Nel senso, è cambiato adesso il tuo rapporto con i videogiochi, perché sei tranquillo? Sì, sì. Prima passavo proprio la vita a giocare, basta. Adesso, se sono a casa a non fare niente, vabbè dai, facciamo un partito al LOL. Ma vivi più come un passatempo? Sì, sì, sì. Prima era proprio, non dico, sì, un'ossessione, perché mi distraevo dal mondo reale, appunto, anche. Quello mi ha molto aiutato, ha aiutato e non, perché così sono rimasto ancora più tempo lì, in quella situazione, però diciamo che i videogiochi mi hanno aiutato a non pensare molto, cioè, passavo le giornate a giocare e mi distraevo così. Certo, c'è un po' questo ruolo ambivalente dei videogiochi di Kikomori, che da una parte giustamente aiutano ad abbassare un po' questa ansia, questa sofferenza che pensare tutto il giorno alla propria condizione ti provoca, dall'altra si potrebbe anche pensare che l'alimentano, perché altrimenti diventano un po' un'arma a doppio taglio. Già. Però, ecco, in questo caso, c'è la dimostrazione che la dipendenza o l'eventuale bisogno dei videogiochi, anche per non pensare, migliora conseguentemente al migliorare anche della tua condizione con gli altri, con l'azionale, nel senso che adesso, appunto, senza fare, immagino, particolari terapie per i videogiochi, sei riuscito a... non hai fatto nessuna terapia. Non hai mai chiesto aiuto, nessuno. Non hai chiesto... Cioè, io non mi... mi viene un po' da ridere adesso perché questa cosa non l'ho detta, però io mi sono sempre definito i kikomori, però scherzandoci sopra perché non esistevi ancora tu, non esisteva questo progetto bellissimo che si può fare un sacco. Era un concetto prettamente giapponese, quindi in Italia non poteva esistere i kikomori. Anche un po' come identificazione in un gruppo perché è appassionato giapponese, non dicevi, ah, sì, esatto, esatto, lo dicevo per scherzare, però effettivamente era vero, no? Sì, sì. Ma anche la depressione, io non ho mai pensato di soffrire di depressione. Quest'anno di poi invece ti riconosci? Ho cominciato a pensare, ma cazzo, allora è depresso, tipo 17, 17, diciamo, una gufa per dirti. Perché pensando come stavi? Pensando a come stavo, i miei pensieri, ero sempre steso sul letto a guardare il soffitto, a piangermi addosso un po', a pensare che senso ha la vita, cosa sto facendo qui. Cioè, anche la depressione esistenziale? Sì, sì. Pensieri esistenziali del tipo cosa faccio tutto questo se poi tanto alla fine muoio? Sì, sì, molto pessimista. Mi ricordo a Londra che ero alla metro, volevo buttarmi sotto la metro, mi stavo, cioè, non sono mai riuscito a... A vedere quindi pensieri anche a suicidare. A suicidare, sì. Per me il suicidio era una cosa logica, ok? Però non sono mai arrivato a quei livelli estremi, non voglio... Logica nel senso... Logica nel senso che pensare a suicidarmi fosse una cosa normale. Pensare a avere questi problemi esistenziali, avere queste ansie, stare male, tutti i giorni. Svegliarsi per me era un'agonia, praticamente, svegliarmi... Quindi dicevi, era un po' la soluzione più logica che vedevi al problema? No, no, non dico questo, dico che pensare a queste cose per me era una cosa normale. Ah, ok. Non era una cosa strana, per dirti. Era un depressione... No, pensavo fosse normale. Ma quindi che tutti l'avessero, o normale per te in quanto? Per me, per me. Ok, per il tuo modo di essere tu pensavi che... Sì. E questo è un problema in realtà, secondo me, che ti tiene dentro. Ovvero, che è il fatto che molte persone si convincano che si è così e che si è portati ad essere così e che quindi non si può cambiare. Invece, si può cambiare e non bisogna convincersi che, diciamo, il proprio essere sia un qualcosa di statico, inondale. già, purtroppo è una cosa che è dentro di noi questa. Soprattutto quando sei giovane, secondo me, io mi ricordo anch'io alla tua età o ai 16 anni, ai 17 anni, è molto più facile avere questa visione pessimista, soprattutto se si è appunto ragazzi un po' più timidi che quindi fanno un po' più fatica a legare con gli altri. Insomma, mi riconosco in parte anche in quello che hai raccontato, però adesso, insomma, prima vi parlavi di università, quindi sei convinto di voler andare a università? Forse fai psicologia? Boh, non so. Sei qua, sei in realtà, no, perché me lo diceva prima, sì, lo stavo dicendo perché io ci tengo molto ad evitare le persone. è una cosa che mi fa piacere, ho sempre voluto farlo anche perché appunto ho avuto questo passato, non so cosa vuol dire soffrire e riesco a immedesimarmi nel modo di pensare delle persone facilmente quando si aprono con me. Ok. Infatti molte persone problematiche quando mi parlano si trovano bene. Avendo anche vissuto delle problematiche secondo me quando uno vive molte cose complesse nella vita riesce ad essere anche più comprensivo e meno giudicante quando qualcuno si apre. Certo. però allora io più o meno penso di aver ti chiesto tutto quello che volevo chiederti. Secondo te abbiamo dimenticato qualcosa che ritieni importante nella tua storia? L'unica cosa è che appunto vorrei ribadire a queste persone che ci stanno guardando che è una cosa che si può sperare cioè che non è non per forza quello che pensiamo che la vita ci può soffrire. no aspetta è una merda questa la taglio poi decido io eh no lasciare sei pregato perché no va bene volevo dire che appunto no non lo dico neanche basta ma secondo me l'abbiamo già detto sì ma comunque serve una cosa stupida io da dirla tu vuoi dirla se al massimo poi la taglio va bene va bene così cioè le persone capiscono da sole no io penso davvero che il fatto che tu sei venuto qua a parlarne e il fatto che tu abbia dato della speranza io penso anche soprattutto i genitori vedranno in te sì vedranno in te comunque un fattore di speranza perché comunque assomigli immagino a tante storie dei figli che sono magari isolati che passano molto tempo in casa e che stanno male perché poi il punto chiave non è tanto uno che sta in casa è che vive male questa situazione penso che tu possa essere una fonte di speranza ma lo spero poi io magari ci vediamo tra un paio d'anni facciamo un'intervista mi racconti se le cose sono andate sono state meglio quindi no scherzo sicuramente ti vedo ti vedo un ragazzo in gamba quindi sono sicuro che riuscirai a trovare la tua strada e niente ti ringrazio e adesso continuiamo la nostra chiacchierata comunque ragazzi bellissima community continuate a supportarla veramente venite a fare la testimonianza questo vuole dire è importantissimo ragazzi io veramente porto molto rispetto questo volevo dire porto molto rispetto per le persone che tuttora soffrono di queste cose sono lo stesso venute qua a parlare della loro storia perché non è facile già per me che comunque io è da due o tre anni che non sono più chiuso in casa che comunque adesso vivo una vita normale molte ansie le ho tolte sono molto cambiato ecco niente ti fare la vostra testimonianza perché è molto importante io probabilmente se fossi venuto a conoscenza di questo canale all'epoca mi sarei svegliato prima avrei capito certe cose avrei avuto più consapevolezza se avessi visto un ragazzo come me che in questo stato che è riuscito a superare che sta meglio mi avrebbe fatto pensare insomma diversamente avrei avuto un punto di vista esterno ecco perché comunque quando si guardano queste interviste si ha sempre si ascoltano io penso che questo sia il bello delle interviste perché le persone ascoltano e basta non giudicano soprattutto i ragazzi che passano queste cose ascoltano e molte volte con il dialogo normale no non si riesce a fare questa cosa perché si giudica subito si vuole subito dare la risposta non si ascolta mai e questo è l'importante quindi veramente ragazzi se qualcuno di voi si tira indietro fatevi un po' di forza e venite veramente perché può essere anche utile per voi raccontarvi grazie grazie per questo appello complimenti anche te per il coraggio perché comunque hai primato del ragazzo più giovane che è venuto qua ragazzi questo non te lo toglie nessuno e niente anche io per adesso per adesso per adesso sei il numero più giovane hai 19 anni vediamo se qualcuno vorrà venire a raccontare comunque grazie ancora e ci vediamo alla prossima alla prossima ragazzi ottimo grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille